Benvenuti a tutti i partenari sul canale, io sono Piguet e oggi sono qua per un nuovo video su God of War, Change of Olympus. Borea il vento del nord, qui riposa Borea il vento del nord che guida il carro del sole e i suoi fratelli Zephyro e Euronoto nel loro viaggio conducendo il sole attraversi i cieli. Tempio dei destrelli del fuoco, i destrelli del fuoco sono i venti che sospingono il carro del sole del dio Elio, ok? Beh immagino che qua per adesso non si possa far nulla. E mentre Kratos si avvicinava al tempio capì che la missione che l'attendeva era più in mani di quanto immaginasse. Di nuovo la strana melodia incantatrice risuonava nella nebbia nera di Morfeo ammaliando Kratos. Con le compenetrazioni poligonali del suo braccio? E vabbè. Maglie maledette. Vieni qua va. Lascio saltare la testa tranquilla che non ci pensi due volte. Tutto qua? A quanto pare si. salagmiti. Milioni di anni per riprodurle tra i secondi per distruggerle. io che continuo a connettersi e disconnettersi. Qui? Qui niente. Arrampicati uomo. Arrampicati come solo tu sai fare. ois. Il tempio in cui si trovava Kratos era il carro di Elio. Lo stesso carro che i destrieri del fuoco portavano nel cielo ogni giorno per consentire allo splendore di Elio di brillare sull'umanità. Beh oddio la forma grande del carro. Non ce la vedo questa cosa volare nel cielo ogni giorno. Kratos, non c'è più tempo. L'Olimpo ti reclama. Sono stufo delle richieste dei dèi, Atena. Io ho fatto abbastanza. E adesso toglimi tutti questi incubi. non sa se decidere quando terminerà la tua attività. Oterrai la tua libertà col tempo. Ma per ora l'Olimpo ha bisogno che tu obbedisca alla sua volontà. Il dio del sole è stato strappato dal cielo. Il tempio in cui ti trovi è il carro di Elio. Senza la guida degli uomo padroni, i destrieri del fuoco hanno condotto il carro del sole sulla terra. Merda! Nessuno potrà impedire a Morpèo di conquistare il potere assoluto. Molti veri sono caduti in un sonno profondo. Presto, tutti sottombreranno alla morsa nera di Morpèo. Eh, buono. Mi dormiremo di più. Devi trovare Elio e riportarlo in cielo. O il mondo degli beni e degli umani sarà per tutto, per sempre. Solo la luce può aiutare la morsa di Morpèo. Atena! Atena! Ma sì, cioè, che ci vuole? Vai, prendi Elio, riportalo in cielo. Allora, ho detto fatto. Però non è tutto facile, eh? Cazzo al cazzo. Tanto devo farmelo aiuto al suo sbattimento di palle. E la c'è un forziere. Beh, ma tutti che hanno una vita facile. Chiedono, chiedono, nessuno ti deve. Ah, favore. Yes! Vai! Bello, la più vita. Comunque, cerchiamo Elio. E quanto ci vorrà mai a trovare un dio che è caduto dal cielo e chissà dove ha fatto schiantare il suo stramaledettissimo carro grande quanto una città intera. Non dovrebbe essere poi così difficile, no? Oggigiorno i dèi li vendono così al mercato, sapete? Biologici, anche per vegani. Quindi... Dovrebbe volerci molto, no? Eh... Sì, salvata. Ah, il collo! E anche un po' di sonno. Prima di andare di qua. Di qua che c'è? A quanto pare niente. Niente, si va giù. A meno, suppongo che si vada giù, a meno che non si vada su. Damose! Bene. Arri bene. Arri bene. Eh, arribe bene! Porco cane, però, eh! Ma c'è un posto che nessuno... In cui non ci siano rompi coglioni a... A scassare le balle! Aio! Con questi satiri di merda sono... Una rottura! Brucia all'inferno! Innaggiala! Tra l'altro hanno questo coso che è improvviso, non te lo aspetti e ti frega sempre. Questo minigame qua. Cavalti! Questo che serve? Ah, cioè io adesso mi devo pure fare il giro. Vabbè, bello! Bello! Tirei... Grandioso! E basta! Aglio! Managlia! Scidenti a voi! C'è un cacchio qui! Per uccidere quello, mi immagino che bisogna fare il giro! Come fa a fare una capriola sulle scale? Lo sa solo Dio! Oh! Che stress! Un'azione! 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 Ero! Preso! Eh vabbè dai Eh no Te sgozzo E che cacchio sono quelli che lanciano le palle di fuoco Aio Adesso mi sternano Venite qua Porco Porco mondo Frutti bigliacchi di merda 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 Dai 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 Nazione Dimmi che ce l'ho fatta Per un pelo Fammi recuperare la vita va Buono siamo full Guarda se non sono molto attivo Ma non c'è molto a commentare Purtroppo God of War è tutto così È corridoi su corridoi E poi gente che vola a destra e a sinistra Dimmi che questa porta si apra Grazie E almeno aprimi questa porta del merda Perché suppongo che bussare era troppo faticoso per Kratos Non c'è un pifero qua Né un pifero né un piasco Tanto a Aio non mi interesserà se spacca un po' dei suoi vasi Sapete com'è Voi andate a casa di qualcuno Non sapete cosa fare E o spaccate i vasi O gli rompete i cd O gli pisciate dentro i vasi di ferro E chi ha intuito la incitazione è bravo Quanto era questo 4850 Ci vorrà un secolo E questi Ai Vabbè questi cadono facili E danno anche un sacco di SP Ok Vediamo un po' qua cosa c'è Forziere Leva Leva Ok Ok E questo suppongo A quest'altro A ricordi logiche Dice un salvataggio Andiamo di qua Ai Ma questo è imprendibile Ho sbagliato A presto 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 Vi ripodo Vi ripodo Fino a nuovo giorno Peccato che la terra non è piatta Quindi il sole non riposa mai Quindi Avete cicchiato cari te Ateniesi A presto 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 Africamente Finalmente Loro A presto Allora Comunque Il punto da A presto Che Noi A presto Civa Dopo A presto nell'oceano, a fare i viaggi, sapete, transoceanici, eccetera, e loro semplicemente hanno detto niente, la terra è piatta, basta, non si può andare oltre quel tot, e basta. E così hanno fatto cadere il mercato dei viaggi transoceanici, semplicemente. E così è fiorita la grande industria dei viaggi low cost e della Grecia, che al massimo si estendeva lungo il Mediterraneo. Questa, sono tutte strategie di marketing, signori, tutte strategie di marketing. Ok, bom, porci, dato che siamo a 17 minuti, termino quale episodio, spero che il video vi sia piaciuto, io sono sempre a live, come diceva di tutto, l'idea di usare in descrizione del video, se non siete ancora iscritti a questo video, iscrivetevi, e noi ci vediamo in un prossimo video, a presto, ciao ciao!